Qui si discute intanto mentre tu parli, Carlo i microfoni sono aperti, ti sento, cosa stai scherzando? Carlo, completamente con te, nel senso, non ha fatto posta, sono piloti, quattro volte campioni del mondo, a 300 all'ora, sbaglia le staccate di tanto così, a 50 all'ora che Vettel non ha fatto posta andare addosso a Hamilton, mistera quando abbiamo barzelletta. Ha detto questo, possono fare quello che vogliono, ha preso 10 secondi di penalità, oltre al drive-thru io dico che è stata giusta la penalità perché ha fatto apposta a fare la reazione, poiché Hamilton l'ha provocato, Mark con te, ma sul non fatto posta, c'ha la mano sul volante e gli va l'osso, qualche volta ci sta, comunque l'errore è costata la gara alla Ferrari e l'errore della Mercedes è costata la gara a Hamilton perché non rifissargli il paratesta a Hamilton dopo che c'è stata la bandiera rossa è un grave errore, lo togli per far scendere il pilota, quando risale lo agganci, non l'hanno agganciato, è stato un grave errore. da parte del team.